Allora, sono qui in SOLIDWORKS e ho qua invece a sinistra un disegno che rappresenta sulla sinistra, nella figura A, in questa figura qui, una vista di un parallelepipedo schematizzato ideale, dove è tollerato dimensionalmente, su questo lato qua, e mentre qui, solo questa superficie, solo questa superficie, è importante, solo quella lì, è tollerata con tolleranza di planarità. Dunque, questa è qui una rappresentazione schematica del significato di questo qua, cioè queste qua rimangono ideali per non creare problemi, cioè la spiegazione è così, per non creare problemi, rappresento solo, in modo amplificato, quella che è la superficie reale, questa superficie reale, per essere in tolleranza, ok, deve essere dentro la zona di tolleranza che viene espressa con questo numero qua, ok? Dunque, simbolo, rappresentazione ideale, con il simbolo di planarità, e qua in questa immagine è rappresentata una rappresentazione teoricamente ideale, è reale, dove naturalmente queste superfici, naturalmente pensiamo che questa è solo una rappresentazione di una vista, le superfici che in questo caso viene rappresentate a questo segmento, è ideale, anche questa è ideale, anche questa è ideale, questa invece è reale, ma amplificata. E per essere un pezzo che è accettato, questa forma, questa ondulazione reale deve essere dentro questa tolleranza. Adesso come faccio ad andarla a rappresentare con solido, come posso farla? Allora, andiamo a rappresentare sul piano frontale, ok? Andiamo semplicemente a, non metto neanche le quote, andiamo a mettere nel centro un quadrato, vabbè, andiamo, potrò mettere le quote, ho sbagliato, vabbè, andiamo a mettere 150, ok? Tanto per mettere, ma non ha nessun significato. Andiamo a mettere 50, ok, invio, e andiamo a mettere anche 100, ok? E faccio 100, vediamo se riesco, 100, ok? Vado su funzione, estrusione, ok? Funzione, estrusione, e per esempio posso andare anche, cosa posso andare? Anche 20, andiamo tranquillamente a 20, ok? Vado via, adesso per rappresentare, dunque, dunque, ricapitoliamo, togliamo, questa superficie, dunque, questo sarebbe il pezzo, la rappresentazione, quella che noi abbiamo in SOLIDWORKS, che abbiamo una rappresentazione ideale, perfetta, geometricamente perfetta, ma nella realtà non è geometricamente perfetta. Ok, questa è la rappresentazione, dunque, ideale. Adesso andiamo ad aggiungere un qualcosa per fare la rappresentazione non ideale, ok? Dunque, naturalmente dovremo mantenere questa superficie, questa, questa, per tenere tutto semplificato questo e questo qua ideale, mentre andremo a modificare questa superficie in qualche modo per renderla ondulata, ok? Ci sono vari modi, io, per esempio, posso fare anche il modo più semplice, ok? Mi metto qui su questo piano, ok? Andiamo a girarmi perché mi ha girato, così, così, ok? Vado a lavorare su questo piano qua, ok? Su questo piano qua, e faccio, e apro uno schizzo. Semplice faccio, converti entità, ok? Converti entità, tiro anche due righe, cioè proprio posso fare anche così, così, tanto se non voglio perdere tempo, così, magari questa un po' più alta, questa, ok, questa qui un po' più piccola, e vado così, ok? Non quoto, ok? Posso anche non quotare, tanto, vediamo, andiamo a vedere cosa succede. Vado in funzione, estrusione, ok? Ed estrudo fino, in modo passante facciamo, ok? Estrudo questo, 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 inverti direzione, ok? Invertiamo la direzione, passante. Dunque, questa potrebbe essere benissimo una rappresentazione dove, ripeto, questa superficie, facciamo col control, questa, 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 questa qua, sono ideali. Che siamo? Dunque, queste, queste qua, in highlights, sono ideali. Mentre, questa qui, questa, 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 che vengono rappresentate idealmente da questa, ok, e nella realtà sono queste, è quella reale, amplificata, amplificata proprio per dare il senso, diciamo. Allora, come faccio ad andare a vedere la planarità su questo, la tolleranza di planarità su questo? Semplicemente, vado a inserirci geometria di riferimento, piano, ok? Vado a prendere un punto, prendo questo punto qua, ok? Siccome, naturalmente, devo prendere i punti, quelli più distanti, e ad occhio, questo qua è il picco più piccolino, i punti su tutto questo picco sono, sono quelli più piccoli, ok? Dunque, andrò a prendere uno, questo, quelli più alti, questo, e questo qua. E ho creato il piano, il piano più alto, cioè un qualsiasi piano che viene giù dall'alto, si appoggia sui primi tre punti e viene definito da questi tre punti della superficie reale. Dunque, faccio così, ci siamo, a questo punto, per vedere se questo pezzo è in tolleranza o no, ok? O vedere quale tolleranza è applicata a questo pezzo per essere, per passare il controllo qualità, semplicemente posso fare, vado a creare di nuovo, dunque, geometria di riferimento, piano, e crea un piano a una certa distanza, ok? Dunque, piano parallelo a questo, a una certa distanza, mettiamo 5, ok? Inverti direzione, inverti offset. A questo punto, se io allargo, ho questo piano che si è appoggiato, questo piano, invece, è qua, ok? Naturalmente si vede che questo pezzo, con questa planarità, ok? Con questa planarità, ipotizziamo che sia una planarità di 5, non passerebbe il controllo qualità, ok? Perché questi picchi qua non sono compresi tra i due piani, tra questo piano qua, ok, e questo. Soprattutto, qui sono compresi perché sono andato sopra e mi sono appoggiato, e dunque tutta la superficie è dentro, è sotto quel piano lì, però tutti questi, questo qua, non è compreso. Dunque, qui il pezzo non passerebbe al controllo qualità, se avessi la tolleranza di 5 mm. Andiamo a vedere più o meno ad occhio, andiamo a cliccare qui, andiamo a mettere, per esempio, 10, ok? Ok? Mettiamo 10, mettiamo 10, ok? Dunque, andiamo a vedere, neanche con 10, perché io vedo c'è questo avvallamento, questo è a posto, ma questo avvallamento no. Allora, si vede qua benissimo, no? Dunque, nemmeno con la tolleranza di 10, perché ho questo pezzettino qua. Adesso andiamo a rimettere, ok? Mettiamo, proviamo a mettere 13, 13, ok? 13 mm di tolleranza che, ripeto, non è una cosa possibile nella realtà, ma è solo, questo è un esercizio didattico per capire cos'è il concetto di planarità. Ma questo, con, dunque, un parallelepipedo, in questo modo, con questa superficie qua, che è questa qui, che è questa, l'insieme di queste superfici, ok? Con una planarità di 13 mm, passerebbe il controllo di qualità. Spero di essere stato chiaro. Ok, ci vediamo, alla prossima, arrivederci. Grazie.